tino siamo venuti a ritirare abbiamo preso anche una giacca elegante scura mancava andiamo da gabriella che dobbiamo pagare e sorridere gabriella rieccoci gabriella hai già fatto il conto aspettavi di darmi la mazzata dietro al collo maglioncini lo sai ovviamente richmond fino a 250 non li pre 250 perché 25 sono curioso io ho visto che comunque a lui piacciono molto le marche brand capita lupo piacere qualunque cosa voglio dire fino a lui piacciono i brand brandy e porta a casa la bella giacchetta ehi 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 calma qua eh vabbè ragazza ti ha detto che sei troppo bellissima e quindi caliamo il caliamo il dollaro è come diceva buonanima questo è già scontato vedi da 230 a 115 cioè un ottimo è un affare questo antonio un affarone proprio un affarone diamo avanti due belle sneakers andiamo avanti ok avevamo dimenticate belle felpine i due件 anni ma quanto abbiamo preso abbiamo preso pure un padre crea vedi 100 150 90 la t shirt la t shirt 90 euro 119 adesso tutto viene 1190 euro con cui sconto lello supersaldo tre e trentani vabbè facciamo che il caffè te lo offro io 3 30 dai a fare fatto a fare fatto guarda mi è commossa sto avendo un mancamento un po di acqua e zucchero ce l'hai acqua e zucca acqua e zucchero 1190 però e procediamo procediamo che sono ancora un po confuso capisci e l'ho detto anche io prima quindi lo sanno tutti sto fatto di paga e sorride vabbè ti posso lasciare venti passo a dare il resto dopo no vabbè te li pago non voglio aver copposto già mi chiamo ogni giorno antonio 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 ci siamo per il pin tiro te lo ricordi a memoria il pin non te lo ricordo tiro a chi le rubate la carta dai col tasto verde ci siamo dai antonio ok vediamo è quella le rubate col codice tino o l'hai rubata senza codice magari qui sono ho capito vediamo se sta dai ci sono ci siamo ci siamo c'è piena è piena straborda tino bravo a chiunque tu l'hai rubata bravo bravissimo il mio cugino sei in carcere è andata operazione transazione eseguita la carta gabri è un po chic è un po chic ma non voglio che sia shock capito grazie per averci scelti vabbè conserva grazie un bacione a te lo mi raccomando va bene salutemi gianni arrivederci a voi buon lavoro ciao ce l'abbiamo fatta eccolo lui ti te lo presento se vuoi puoi stringergli la mano se vuoi è un uomo come noi è un uomo come noi è un uomo come noi eba oggi vedi anche lui vedi oggi ciao tino bravissimo è un uomo cioè vogli bene per piacere perché anche lui è peccato è peccato arrivederci arrivederci tino forse abbiamo esagerato eh vabbè comunque sarà contento lello no sarà contento lello che c'ha sempre da ridire andiamo a sentire che cosa può ridire questa volta